La conferenza di presentazione La conferenza di presentazione Il suo intento non è perciò quello di dare una risposta ai problemi dei paesi più poveri, ma quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravi disagi in cui si trovano due terzi della popolazione mondiale, quella che non ha accessi ai mezzi di informazione.